A chi dobbiamo chiamare? Ghost Ghost Allora, prima di tutti è Ghost Ghost Allora, lui ci ha scritto Voglio essere chiamato perché così posso farmi figo con i miei amici Dunque, lo chiamiamo Gli diciamo, adesso puoi fare il figo con i tuoi amici e poi chiudiamo Lo fa dannare Allora, rispondo Risponderà qualcuno? Lo scoprirai tu Ghost Ghost non ha risposto quindi non ha potuto Vincere la batteria di pentola inox e quindi vaffanculo Ti vedi che era un fantasma Ah, è vero, Ghost Ghost perché è un fantasma? Cercava di premere il pussante ma il dito attraversava il telefono Ho capito, ho capito Samuele Pazzi risponde, me lo senti Dovete chiamarmi perché non c'è la motivazione, virgola Anche perché sto mettendo virgola a caso, virgola Però va bene, virgola, comunque, virgola Sono siciliano, virgola, come voi, virgola Vengo da Messina, virgola E dovete, virgola, chiamarmi perché vi stimo, virgola, troppo, virgola Se chiamiamo questo Samuele Patti Però ricordati, Patti Chiari è amicizia lunga E virgola Ciao, virgola, cosa stai facendo, virgola? Che hai? Mi chiamo, virgola Sono un gattino Sono la zero Del telefonino Hai vinto un premio Una bella funcia di minchia Oh, oddio Ha vinto la funcia di minchia Stiamo facendo una saga Buttala diavolo Non si chiede, buttala diavolo Abbiamo chiamato il nostro fan mentre si segava Samuele, sappi che siamo in diretta E poi fa schifo un po' mentre parli con noi e pensi a noi e ti seghi Cioè, voglio dire Quanti anni hai, Samuele? Credi Comunque, ti lasciamo fare quello che stai facendo, dai Buona sega Virgola Virgola Mi chiamo, virgola Sono un gattino Chiamiamo Francesco Gallio che ci ha scritto Sono l'unico che pensa che voi siate migliori di The Show Ma che è un coglione? Ma scherzando? Ora te la faccio vedere io, ora te la faccio pagare Te la farò pagare È un po' duro, io non voglio avere problemi Sì, sì Pronto? Come ti sei permesso a dire che siamo meglio The Show, scusa? Mi chiede crisi Coglione, come ti sei permesso a dire che sei l'unico Ma ovviamente scherzavo, questo è male Ma come fa? Ma stavo scherzando No, no, ti devi più permettere Cattissimi, c'è un 24, non ti fatti Sì, veramente, vedi, ci... Praticamente siamo rimasti di merda Perdona, però non ho scherzo No, non mi interessa un cazzo Ma sei, Manuel, tu? No, no, dopo di questa No, no, sono io Dopo di questa, basta Vabbè, si sa che il migliore dei decresi è Gianluca Aspetta, aspetta Vediamo se lo possiamo perdonare Se indovini chi sono Ti perdoniamo È difficile comunque, ah Se non è Emanuele e non è Gianluca Non salgono Ma ci fanno la decresi di Gabriele, Emanuele e Gianluca, giusto? Com'è Gabriele? Emanuele e Gianluca è sicuro, sì Il terzo come si chiama? Quindi anzi gli insulti Dicendo che siamo meglio dead the show Poi il mio nome lo sbagli Scusa uno come si dovrebbe partire con te, scusami Ma era tutto un piano per farmi chiamare Famiglia, ma sei Comunque stavamo scherzando Non ti volevamo insultare Siccome noi siamo dei like grabber Praticamente nel video vogliamo scrivere Insultiamo il nostro fan, capito? Per avere tanti soldi, tanti fani Perché poi diventiamo ricchi E di noi più ricchi dei decresi Non possiamo comprare le banane Quindi ti abbiamo chiamato solo per usarti in poche parole Ah, so per questo Sì, sei una cavia da laboratorio Sei solo una matricola Per favore potete dire Fabrizio Gaglio Frocio Fabrizio Gaglio Frocio Aggiungete Fabrizio Gaglio Frocio Su Facebook Comunque io mi chiamo Claudio Adesso lo sai Ah, lei è Claudio Eccolo Il marmine è quello che è l'antillama giocchiale Brava Ragazzione Perché l'antillama giocchiale? Trabbico Eh sì, un pochino ho avuto diciamo un'operazione Non si può dire Prima o poi si scoprirà No, ti possiamo dire in privato che fa parte dell'X-Man Io l'ho preso sul personale Perché non ti ricordi il mio nome e quello degli altri due sì? Quando esce sto video ti ho detto Ninja Non affronta il disco Ma scusa, ma perché non mi rispondi alla domanda? Ma perché Non è molto comune Non è che ti do il film Però Emanella e Giocuca sono meglio Sì Ma che cosa, grazie Comunque sono a gusti e soggettivo Come cosa Mi dice queste cose Sta piangendo Ah sì Canzoncina Da dove vieni Fabrizio? Sono di Palermo Forza Palermo Allora è Catania E vabbè dai Anche noi siamo simpatizzanti di Palermo Ma non è vero Forza Palermo Forza Palermo Dai ci ha fatto così Ciao Fabrizio Un bacio Ciao Ciao carusi Mi prego da un po' Siete dei leoni Ho visto il video Ti chiamiamo a cellulare E il mio numero Se vi vado di chiamarmi per il video Sono sempre disponibile Buon sabato sera Se non sei disponibile Giuro Giuro Giosa Che mi tocca i capelli Giu 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 Chiamata alla segreteria delle forze Era sempre disponibile Ma sei un coglione Dici che sei sempre disponibile Sempre disponibile Va bene L'hai voluto tu L'hai voluto tu Siete Uno Dopo il segnale Ma Veronica De Pasquale L'unica ragazza presente nella lista Pronto Pronto Ciao Veronica Ma chi sei? Mi sono fatto dare il tuo numero Io mi chiamo Veronico Ah ho capito Insomma va Volevo conoscerti Portarti fuori a cena E chissà magari Combinare qualche Qualche bargecola Sei disponibile domani alle 23 No guarda Sono disponibile domai Domai? Domai? Ezio Ezio Per Che cazzo L'hai chiamata Sarà terrestre Secondo Aspetta il telefono Aspetta Sì Pronto Pronto Ma che è? Allora sono Veronico Mi vuoi conoscere sì o no? No ovviamente Ti pare che non la riconosco la tua voce? E che chi sono scusa? Claudio Ah io sono Claudio Con questa voce Comunque io non sono Claudio Sono Gianluca Ah vabbè Siamo i De Cresi Siamo i De Cresi No avete la stessa voce Ma che cazzo vuol dire? Non la stessa voce Nel senso Comunque ho capito che Era qualcuno di Catania Perché si sente dalla voce Ah ok Veronica una cosa Conosci tutti e tre i nomi dei De Cresi? Certo Claudio Gianluca Emanuele Qual è il tuo preferito? Claudio Grazie E' il tuo spreferito? Gianluca dai Veronica quanti anni hai? 17 Ci puoi fare Ci puoi fare Non mi arresto Non mi arresto Sì no E' più così dire Ci fidanziamo? Va bene Grazie ringrazio Adesso ti devo salutare Che dobbiamo andare a mangiare alle galline Ah va bene Salutatemele Un saluto dal signo pollo Il pulcino fa pio pio Ed il gallo corocococco Stiamo chiamando Ottomane Abacce Per due motivi Numero uno perché si chiama Ottomane Abacce E ha solo due mani Non si chiama Ottopiede Abacce Quindi per questo lo chiamiamo Ci segue da quando abbiamo mille iscritti E' uno U-Tuner Ma io non so cosa siano questi U-Tuner Ciao Ciao Sei tu lo U-Tuner? Cosa? Sei tu lo U-Tuner Di dove? Mi hanno detto che sei uno U-Tuner Sì Siamo i The Crazy Sì veramente Ok adesso Quizzone Devi dire i tre nomi dei The Crazy Sai i nomi dei The Crazy? No Ma come? Ma ci segui dall'inizio C'è qualcuno anche a non sapendo il nome che preferisci? Tu e l'altro che è un po' più muscoloso di te i capelli neri Come fai a sapere chi sono io? Perché tu sei quello che andò? Sì Bravo Gianluca dai No volevo farvi le congratulazioni per i 10.000 iscritti Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Sono stato il primo che ce l'ha fatto io Comunque dai buona giornata È stato un piacere parlare con te Buona TV Buona TV dai Grazie Ciao 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 Mi devo chiamare Fox Po Cioè Fox con la cacca La Po Perché in inglese la cacca si chiama Po Per chi non lo sapesse Pronto? Sì siamo i The Crazy Chi siamo? Pronto? Non ho fatto un video di niente Grazie Richiamiamo Sei tu il signor cacca Po Sì Siamo i The Crazy Che The Crazy? Ah The Crazy Ok Sta porca cacca Ora l'hai capito? Ah ma sta cacando Sta cacando Stai cacando quindi È certo Mi hai fatto venire Ah certo Certo Effettivamente Ho capito che è un haters Comunque ci ha fatto piacere Il grandissimo Fox Po Ciao Buona cacata Grazie Ciao ciao Allora ragazzi Il video è finito Ci scusiamo se non abbiamo potuto chiamare tutti Ma purtroppo Si sono arrivati tantissimi numeri Abbiamo cercato di chiamare più persone possibili E si è scaricata pure la batteria della videocamera Per farvi capire quanto tempo È da ora che siamo qui È da ora che siamo qui A provare a chiamare Ok ragazzi Siccome si è scaricata la batteria Della nostra beneamata videocamera Siamo col cazzo di telefonino E volevo dire una cosa Io mi chiamo Claudio Lui si chiama Emanuele Lui si chiama Gianluca Tutti vogliono il pulcino Pio chissà cosa farà Chi farà? Farò un film come un gran divo Una tournetta Al vivo le pubblicità Tutti cercano il pulcino